il momento da top selling ovvero la classifica dei cinque giochi accessori più venduti della settimana da gamestop signor paco buonasera buonasera allora troviamo se con l'aiuto della regia si oggi è oggi è tutto molto difficile oggi è tutto molto difficile ma al quinto posto al posto paco fai xbox all access xbox all access ovvero il servizio che ci fornisce microsoft appunto è la possibilità di stop in esclusiva game stop in esclusiva si la possibilità di accedere a mille mila 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 titoli dei più disparati bello xbox all access che mi permette di acquistare un xbox rss e 24 mesi di che pass a 24 99 oppure un xbox series x con sempre 24 mesi di game pass incluso a 32 euro e 99 grazie mille grazie mille l'avevi scritto pure me l'avevo scritto pure trovava cercava al quarto posto troviamo c'è un ragno gigante dove dove attenzione ok adesso tra un po' andiamo in pausa tranquilla ci pensiamo al quarto posto switch all edizione imitata zelda tears of the kingdom che l'aveva venduta pure a me mentre stavano in pausa e manca ancora la mia va bene poi quarto posto quarto posto abbiamo appena detto il terzo posto oggi non ce la facciamo al terzo posto fifa 23 sì anche l'altra settimana era il terzo posto anche l'altro anno ma come sei attenta ma che se la mia spettatrice numero uno allora incredibile poi passiamo alle novità secondo posto playstation 5 più god of war ragnarok a 5 69 e 98 anche la settimana scorsa infatti ho detto passiamo alle novità con un po di ironia allora e prima posizione veramente una novità perché c'è super mario odyssey con un 10 per cento di sconto riportando il biglietto dal cinema quindi se andate al cinema a vedere il nuovo film di super mario e poi venite in uno dei nostri game stop store ci date il biglietto e vi si fa un bello sconto del 10 per cento su super mario odyssey ecco